Grazie, grazie mille. Ho cominciato a appassionarmi di queste cose, già ho fatto qualche giro con gli studenti, vedere, riconoscere gli alberi vicino alla scuola, della zona, eccetera. Mi ero munito di questo mio piccolo Vangelo, che è stato il primo libro, che è molto utile, un manualetto così, molto semplice, maneggevole, eccetera, e quindi ho cominciato con questo e poi ho visto altre cose, poi oggi anche su internet ovviamente è facile trovare. E allora poi ho continuato un pochino e devo dire che in qualche occasione riuscire a scoprire che albero è, un albero che ti incuriosisce, che vedi, è un'emozione, è una cosa bella, cioè ti dà un senso di conoscenza, di vicinanza alla natura, insomma. In qualche volta mi è successo anche con alberi un poco rari, non particolarmente comuni, insomma. Poi naturalmente ci sono anche delle difficoltà, soprattutto per certe specie, di cui esistono tantissime varianti e allora lì saper riconoscere l'uno o l'altra variante è un po' complicato. Per dire, noi quando andiamo a Londra, dove abita mio figlio, spesso andiamo, siamo andati sempre con piacere, ai giardini di Chiu, dove è una cosa incredibile perché vedi, non so, c'è il viale delle querce dove ci sono 40-50 specie diverse. Naturalmente loro si portavano tutti questi alberi dalle colonie, da tutto l'impero e quindi questa è un'altra cosa interessante. L'origine degli alberi, l'importazione di alberi, di specie dalle colonie, dal Nuovo Mondo, da altri territori, è avvenuta nei secoli e sempre in collegamento con certe situazioni anche storiche, eccetera, per esempio la magnolia, noi la consideriamo un albero normale, molto qualsiasi, in realtà è stato importato solo nel 600 da un botanico che si chiama Magnol e che poi nel sud della Francia, in Provenza, lui aveva fatto il primo impianto, il primo giardino botanico dove c'era questo albero e poi si è diffuso anche dove si trova, eccetera. Poi tante cose sulla storia degli alberi sono molto interessanti, molto curiose. Io rapporto anche a queste vicende, in particolare sulla storia degli alberi importati nell'Ottocento dalle varie parti del mondo. C'è un bel libro, gli autori siano Griffin, che si chiama Cacciatori di piante, che racconta tutte queste vicende nell'Ottocento, anche con storie poi avventurose, con gente che ci ha lasciato la pelle, magari esploratori e botanici finiti in luoghi sperduti o affondati di naufragi, queste cose tremende, ma insomma c'è tutta una storia. E quindi poi naturalmente per coltivare questa curiosità abbiamo frequentato e siamo andati a vedere anche molti giardini botanici. Questi sono disegni fatti a Porelli. Penso di sì, ma i disegni dei botanici sono bellissimi. Spolanigiana, credo. Non è la magnolia grandiflora, quella solita. Tra l'altro queste qui vedo che sono delle piante che hanno le foglie che cadono. Non è come la magnolia che invece è verde, perenne, non è possibile. Vedi quella lì, c'era il giostro delle grazie, una bevidezza che ti man ascolta, una piottura splendida, forse ce l'ho qui. Ah, tutto è proprio in base. No, 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 no. Qui c'è la fioritura alle grazie, nel chiostro delle grazie, una magnolia stellata. Questa qui però, non lo so, mi sembra che non siano così aperti i fiori, quindi c'è un altro tipo, ma ce n'è naturalmente tante varietà. Dunque, anche qua si vede proprio che sono alberi che perdono le foglie, diversamente dalla magnolia granitaria. Però questa qui è la caratteristica, come vedi, che i fiori sono lungo tutto il ramo, sono diffusi non solo all'apice in punta, in fondo ai rami, così che è una cosa abbastanza singolare. Passiamo in Viadezza, dopo, c'è più o meno questa altezza proprio, un altro di questi Cercis di Quastrum che è metà bianco e metà rosa. Questi qui poi sono tutti semi, tutti destinati in Toria a fare, beh, se da ogni semi nascesse un altro olmo, non ce ne sarebbe un po' troppi, no? Sì, guarda che bello, sono fatti posta proprio per... Se tu vuoi dirmi che dentro, qui dentro c'è qualcosa che deve diventare così? Ho citato anche, c'è un passo del Vangelo in cui Gesù Cristo dice guardate questo seme di, non mi ricordo che cosa, non era di sesamo, ma insomma, un semino è così piccolo e poi da lì viene fuori un albero. Questi qui che sono ancora, vedi, spoglie senza neanche foglie, niente, dovrebbero essere, se non ricordo male, dovrebbe essere una Catalpa Bignoldea, quella lì. La Catalpa, che era anche quella, una pianta che viene dagli Stati Uniti, dall'America settentrionale, tanto io credo che il nome anche sia il nome di una tribù indiana. Proprio quindi questa, la presenza delle palme e dei banani in Tazzaduomo, insomma, ha dei precedenti. Proprio quindi questa, la presenza delle palme e dei banani in Tazzaduomo, Proprio quindi questa, la presenza delle palme e dei banani in Tazzaduomo, Proprio è un'enversa di interno di Tazzaduomo, per il momento Ciao Martin! Allora? Sembrerebbe una pulmacea però... Paolonia Tumentosa 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 Paolonia Tumentosa